Mancanza di illuminazione, di scariche, vegetazione incolta. A Tor San Lorenzo le strade private sono terra di nessuno e far rispettare la legge è impossibile. I residenti lanciano un grido d'allarme. Emblematica la situazione di Via del Pinguino. Questa è emblematica perché veramente è al centro del paese, collega due strutture recettive importanti come i campeggi, i ristoranti, i bar e i locali di ritrovo. La sera questa è un'autostrada di gente che va a piedi con il telefonino in mano per poter illuminare e se guardate alle vostre spalle è pieno di buche. Famiglie con le carrozzine dei bambini, riuscite a immaginarlo. Durante il giorno ci sono il passaggio dei mezzi pesanti come è appena capitato che riducono la strada in queste condizioni. La carreggiata lì giù si restringe infinitamente perché c'è una giungla praticamente mai mantenuta, mai tagliata e le condizioni sono queste. La manutenzione del verde qui non esiste, come diciamo anche la mondezza, la mondezza viene abbandonata qui, sono mesi che sta così in queste situazioni, proprio in questo caldo e nessuno, ripeto, fa qualcosa. È un muro di gomma, siamo proprio spazientiti. Inutili le continue segnalazioni, i cittadini si trovano da anni di fronte a un rimpallo di responsabilità, nessuno è competente e dunque nessuno interviene e intanto il pericolo aumenta. La cosa che fa più paura è il muro di gomma contro il quale vai a sbattere. L'igiene urbana non agisce se non su un mandato dei vigili urbani. Ai vigili urbani ho mandato decine di mail e di foto, mai avuto una risposta. L'ufficio ambiente del comune di Ardia, idem, ha attenzionato, mai avuto una risposta, capisco pure che siamo in periodo di ferie, ma noi il problema ce l'abbiamo tutto l'anno, da anni. È possibile che nessuno sia potuto mai venire a fare un sopralluogo. Una situazione vergognosa anche dal punto di vista del decoro. Non è certo un bel biglietto da visita per i tanti turisti che d'estate frequentano i campeggi vicini e sono costretti a percorrere la strada. Ci auguriamo che questa ennesima richiesta d'aiuto da parte dei cittadini sia presa in considerazione da chi di dovere.